Il fondo è prima delle Alpi, vediamo Milano. Questa è la nostra pareccaia, dove finiamo alcune tipologie dei nostri vini, dalla Monarda Fiat L'Apsel, al Pinot Nero Casaia, al Barbera Goutet e anche un bianco che poi andiamo ad assaggiare che è la Cortese Viniere Le Rocche. Il cemento abbiamo ristrutturato tutto quello che avevamo a disposizione di cemento. Questo è il nostro metodo classico, si chiama Martinburgo, 90% Pinot Nero e 10% Chardonnay. Un metodo classico di struttura, nervoso, fresco, però con una buona bevibilità. Ideale secondo me sia per un facile brindisi che non per un ottimo pasto da godere in tutte le situazioni. Allora, questo è il nostro tre lune, il nostro rosso di serba. L'uvaggio è croatina e una percentuale di barbera. Nasce da un'idea che abbiamo avuto nel 2013 di far fermentare e poi macerare a lungo queste uve dentro il barricchetto non aperte. I risultati ci sono sembrati sugli entusiasvanti per cui abbiamo cominciato a produrlo in modo più serio e nel 2015 abbiamo raggiunto secondo noi i risultati ideali. Sono Stefano Bottiroli. Sono Stefano Vaccaro. Siamo la Travaglina a Santa Giulietta dopo la frazione Castello. Vi aspettiamo tutti appena possibile. Speriamo di riuscire a accogliervi tutti appena la situazione migliore. Ciao a tutti. Ci. Ciao a tutti.